Benvenuti, siamo con Betty Leone, capolista della lista di Sinistra Ecologia e Libertà al Consiglio Comunale dell'Aquila a sostegno del candidato sindaco Massimo Cialente. Lei dopo tanti anni di impegno nel sindacato, nel mondo sindacale, per 14 anni segretaria generale dello SPI della CGL, adesso ha scelto di rimettersi in gioco per la sua città, in quella che è la sua prima esperienza da candidata in una competizione amministrativa. Sì, naturalmente perché io sono molto legata a questa città, in tutti questi anni di impegno nazionale ho sempre continuato ad abitare all'Aquila, era una pendolare nota, facevo avanti e indietro e quindi ho sempre, sia prima che dopo il terremoto, partecipato alle vicende della città. Ho pensato appunto che queste sono elezioni difficili, sono elezioni dalle quali dovrà nascere un Consiglio Comunale in grado di affrontare la fase vera della ricostruzione, perché o la ricostruzione parte nei prossimi 5 anni o non ripartirà più, come sappiamo, la città andrà in decadenza. Quindi sono anni in cui c'è bisogno di un Consiglio Comunale competente, fatto di donne e uomini e sottolineo donne e uomini perché le donne hanno saperi e competenze diverse da quelle degli uomini ed è giusto che queste vengano messe in gioco per uscire fuori dai problemi della città. Insomma, io ho pensato che era il mio momento, che a questo punto io dovevo mettermi a servizio della città appunto per l'esperienza che ho fatta nazionale nel campo del lavoro e soprattutto nel campo della ricostruzione sociale e delle politiche sociali, che credo siano uno dei nodi fondamentali per la rinascita dell'Aquila. Sì, a livello nazionale la crisi dei partiti è evidente e anche delle coalizioni. C'è la famosa foto di Vasto, quella che immortalava assieme il PD di Bersani, l'IDV di Antonio Di Pietro e Sel di Nichi Vendola. All'Aquila il centro-sinistra ha avuto un periodo un po' turbolento, l'IDV ha deciso di correre con un proprio candidato, insomma quella foto di Vasto è un po' sbiadita o c'è ancora la possibilità di riunire il centro-sinistra intorno ad un progetto? Ma io credo che più che la possibilità c'è la necessità, cioè questa città per risorgere ha bisogno dei valori del centro-sinistra. I valori del centro-sinistra sono innanzitutto il lavoro, la solidarietà, la questione sociale, il rispetto del territorio e dell'ambiente, la democrazia partecipata. Senza questi valori, senza questa cultura l'Aquila non può rinascere. Quindi è necessario che dopo queste elezioni appunto chi crede in questi valori si metta insieme per il governo della città. Poi diciamo, certo questo è un momento complicato per la vita dei partiti, però noi siamo noi, Sinistra Ecologia e Libertà, siamo un partito giovane, fatto di donne e uomini che si mettono in gioco per rifondare in qualche modo la buona politica, che sono competenti, che non hanno condizionamenti. Certo, voler costruire un partito nuovo in questo momento è un po' originale, ma noi lo facciamo perché siamo convinti che la democrazia senza partiti nelle società complesse non esiste. E pensiamo che anche all'Aquila bisogna ricostruire una connessione tra la democrazia dei partiti, cioè la democrazia rappresentativa e la democrazia dei cittadini, cioè la democrazia partecipata. Questa è la grande sfida che deve vincere la nuova amministrazione. Se il centro-sinistra dovesse confermarsi alla guida della città, quale dovrebbe essere secondo lei il primo, quali dovrebbero essere i primi provvedimenti portati, messi nell'agenda politica? Beh, innanzitutto bisognerebbe sbloccare la ricostruzione, intendendo per la ricostruzione non soltanto le case, ma anche il progetto dei luoghi dove la gente può stare e vivere. Noi siamo una città in transizione, una città che per molti anni cambierà continuamente, deve avere un'idea del suo futuro, ma deve avere anche un'idea del suo presente, cioè di che cosa deve dare alle donne, agli uomini, ai ragazzi, ai giovani, ai bambini che vivono oggi questa città e che qui hanno bisogno di trovare risposte alla loro vita quotidiana. E quindi la prima cosa da fare è sbloccare la ricostruzione ed avere un piano di luoghi, di relazioni, di socialità che possano permettere a questa città di ritornare ad essere una comunità di vita. Questa, diciamo, è fondamentale e poi dietro questo deve nascere anche un sistema importante di creazione di lavoro. È necessario che l'esperienza del terremoto diventi per questa città un elemento per fondare una nuova economia che si basa sulla riorganizzazione dell'industria, della università, del sistema di formazione, ma anche sul sistema della pubblica amministrazione e dei servizi sociali. Quindi bisogna fare dell'esperienza del terremoto un sistema da cui possa nascere una cultura nuova e nuovo lavoro.